Antonio Sulis, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Oristano, ribadisce che ormai da anni la situazione in cui versa la sanità pubblica in provincia è estremamente precaria. Il problema, a suo parere, nasce dallo stato di abbandono in cui ormai si trova la medicina territoriale ed esprime anche una sua opinione su come si potrebbe cominciare a porre rimedi al problema, anche se ancora sottolinea che potrebbe non essere questo ben visto dalla politica regionale. Ma la situazione di Oristano rispecchia un po', forse in maniera più drammatica, quello che è una situazione generale e regionale e anche nazionale. Tutti sappiamo che uno dei motivi principali è la carenza di medici, specialmente in alcuni settori, come può essere per esempio l'anestesia, la chirurgia o anche l'ortopedia, cioè le branche prettamente e puramente chirurgiche. Per quanto riguarda Oristano io ritengo che bisogna fare un'azione programmabile da qui a poco tempo in modo tale che avendo tre strutture ospedaliere pubbliche e una privata si possa creare e determinare un'integrazione fra tutte in modo tale che ci siano quelle strutture, una che funzioni al top o perlomeno al meglio che è l'ospedale San Martino. Laddove ci sono delle carenze di natura anche organizzativa, dove ci può essere anche un'organizzazione che è superiore alla norma, bisogna avere il coraggio di prendere e trasferire all'ospedale di Oristano. Praticamente uno ma buono. Uno ma buono. Questo è così come hanno fatto in altre regioni d'Italia. Se io vado a prendere l'Emilia Romagna, l'Emilia Romagna ha avuto il coraggio di chiudere determinati presidi ospedalieri per fare in modo che quello che funziona funzioni al meglio da dare un'assistenza anche a quei territori che avevano prima l'ospedale.